Nella giornata di ieri un gruppo di militanti di azione nazionale ed aree a rieti guidati da Gianni Alemanno e Chicco Costini hanno manifestato a ventotene contro il vertice del fantomatico direttorio europeo Renzi, Merkel e Hollande. Con una tante su cui era issato uno striscione, un immenso tricolore, azione nazionale ha detto no all'Europa dei mercanti e dal referendum voluto dai tecnocrati per togliere potere ai cittadini. I tre di ventotene, ha dichiarato Chicco Costini, sono solo dei burattini nelle mani di banche speculatori. Non esiste nessuna politica europea ma solo l'asservimento agli interessi dei mercati. Impauriti dalla Brexit, ora vogliono modificare le Costituzioni riducendo il potere decisionale dei cittadini. Per questo noi voteremo no al referendum e continueremo, continuato Costini, a batterci contro la tecnocrazia di Bruxelles. I militanti sono stati fermati ed identificati da carabinieri, guardia di finanza, polizia e guardia costiera. In un vertice è costato un'enormità ai cittadini.